un errore può capitare andiamo avanti rispettare azione dopo è un'occasione ragazzi non ci ricapita non ci ricapita di giocare di schiena non ci ricapita tutti qua forza forza defensa 3 1 2 3 un'occasione Grazie a tutti. Siamo arrivati! Vai, 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 taglia, hotta, taglia! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Here we go, Pete! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! No, 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 no! Grazie a tutti! Grazie a tutti!